Ciao ragazzi e ciao ragazze, oggi voglio parlarvi di Olaplex, ma prima di parlarvi di questi prodotti per i capelli, se non siete ancora iscritti al mio canale, subscribe, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per essere sempre aggiornate sui miei prossimi video, vi invito a condividere questo video sui vostri social e a venire a trovarmi su Instagram e su Facebook, tutti i link li trovate giù sotto nell'info box, ma ora iniziamo a parlarvi subito di Olaplex. Olaplex sono prodotti professionali per capelli curativi, veramente eccezionali, adesso li vende anche Sephora, ma in realtà ho trovato un rimenditore anche vicino a casa mia. Cosa dire di questi prodotti? Me li ha fatti conoscere la mia amica Ingrid, Ingrid del canale Ingrid Crazy Makeup, andate a seguirla, è molto brava. E cosa dire? Allora, partiamo subito dal primo prodotto, il primo prodotto è questo, il numero 3 va a numeri, questi sono i prodotti che troviamo in commercio per le persone che non sono parrucchiere, ma in realtà questi prodotti li usano i parrucchieri, e quindi ci sono prodotti che hanno solo parrucchieri e ci sono dei prodotti che vengono commercializzati anche per noi comuni mortali. Quindi, questo è il numero 3, questo qua è un trattamento di bellezza per i capelli, cioè bellezza no, scusate, di strutturante per i capelli. Ora vi vado a leggere la descrizione di Sephora e vi dico poi cosa ne penso, perché li ho utilizzati tutti. Questo è il numero 3 ed è il terzo passo del protocollo Olaplex ed è un destinato al grande pubblico, quello che vi dicevo io, per noi comuni mortali. Il suo obiettivo è di aiutare a ripristinare i legami capillari, questo prodotto deve essere applicato a casa prima dello shampoo e può essere utilizzato più di una volta a settimana. Si applica sui capelli bagnati, tamponati, cioè prima di fare lo shampoo, voi bagnate i capelli, li tamponate bene, mettete su una piccola quantità perché veramente sono concentrati, ne basta pochissimo, mettete su un pochino di questo prodotto e lo pettiniamo, andiamo a legarli con il mollettone, li teniamo su, qua c'è scritto 10 minuti, ma più lo teniamo su è meglio è, si può fare anche come maschera notturna, quindi più prodotto, più tempo lo teniamo e migliore sarà il risultato. E questo appunto è un ristrutturante pre-shampoo. Poi andiamo con lo shampoo, scusatemi, perché vado a leggere direttamente, vi vado a leggere la descrizione, il numero, questo è il trattamento numero 4, lo shampoo. Ragazze, guardate, ne basta veramente, ma una noce è tanta, ne basta una nocciolina di prodotto per lavare i capelli ed è una cosa eccezionale. Questo è il passaggio appunto per lavare il capello, ripara le punte mentre deterge delicatamente i capelli. Bond Maintenance Shampoo 4 è formulato con la tecnologia brevettata di ricostruzione del ponte Olaplex. Aiuta a riparare i legami di solfuro mentre pulisce delicatamente i capelli. Quindi restituisce forza e morbidezza ad ogni lavaggio. Effettivamente, ragazze, io non ho mai avuto i capelli così morbidi da quando utilizzo Olaplex. Praticamente faccio fatica anche a fare la piega, nel senso che prima ci dovevo mettere... Cioè, non è che faccio fatica a mettere la piega, sono talmente morbidi, sono talmente lisci, che la piega viene da sola. Non è che faccio fatica, viene praticamente da sola. Quindi, infatti, aiuta tanto lo styling anche del capello. Poi, passiamo al balsamo. Passiamo al balsamo, che è questo. 5. Il balsamo Olaplex. Questo è il quinto passaggio del protocollo Olaplex. Ripristina i ponti senza appesantire i capelli. Bond maintenance numero 5. Il condizionatore è formulato con la tecnologia brevettata di ricostruzione del ponte Olaplex. Permette di ripristinare, riparare e idratare i capelli senza appesantirli. Elimina l'effetto crespo e cura i capelli danneggiati per capelli forti, sani e lucenti. E infatti, anche questo, cioè praticamente, usando tutti questi prodotti in combo, i capelli sono morbidi, sono più luminosi. Cioè, io non ho mai avuto capelli così lucidi, diciamo, ecco, da quando uso i prodotti Olaplex. Lì ristruttura, ristruttura il capello. È veramente una manna dal cielo, soprattutto per chi ha i capelli trattati con decolorazioni, eccetera, eccetera. È veramente uno spettacolo. Provateli, ragazzi. Poi adesso tra un po' c'è... adesso non so quando andrei in onda al video. Tanti prodotti sono sempre sold out, però vi consiglio di prenderli quando c'è il 20% di sconto da Sephora, perché comunque passa col 20%. Passiamo al numero 6. Il numero 6 è praticamente il prodotto per lo styling. Quindi si applica dopo lo shampoo, quando noi tamponiamo il capello per andare a fare la nostra piega. Ne basta veramente poco anche di questo. Infatti sono prodotti piccoli, ma veramente ne basta pochissimo. Ne si applica una piccola noce sulle mani. Io di solito le metto sulle mani, faccio così, poi prendo i capelli, in questo modo, e metto il prodotto in questo modo sul capello e poi li vado a pettinare. Non vado proprio sulla radice, perché tanto vabbè la radice non ha bisogno, però più che altro sono le punte, dalle mezze lunghezze alle punte, diciamo, perché avendo lo chatouche sono più trattati, ecco. E questo prodotto cosa fa? Ho la Plex numero 6. Restorative Cream Restorative, numero 6, idrata e protegge tutti i capelli e aiuta ad eliminare l'effetto crespo. Questa crema lisciante, concentrata, è adatta a tutti i tipi di capelli, compresi i capelli trattati con colori, trattati chimicamente, come i miei capelli decolorati. La formula numero 6, rinforza, idrata, leviga i capelli e riduce i tempi di asciugatura, appunto, come vi dicevo, riduce i tempi di asciugatura. Cioè, in due secondi ho i capelli asciugati, lisci, e non ho bisogno più di stare con la spazzola e il fono a dargli proprio l'effetto del liscio, perché comunque, veramente, questi prodotti aiutano tantissimo la lisciatura del capello. È una cosa allucinante, cioè, quando l'ho provato la prima volta, sono rimasta scioccata, appunto, ho fatto fatica a fare la piega, perché non mi aspettavo una cosa del genere. Adesso io li ho lavati ieri, quindi ci ho dormito sopra, non sono più belli, anche se ho passato la piastra, però, poi hanno la lunghezza, stanno crescendo, però hanno una lunghezza brutta, soprattutto questi, essendo scalati, non sono belli. Come ultimo prodotto vi mostro questo olio, appunto, sempre di Olaplex, è l'ultimo prodotto, perché Sefra non vende tutti i prodotti, come vi ripeto, sono prodotti professionali, alcuni prodotti ce li hanno lasciati anche per noi comuni mortali, se no dobbiamo andare dal parrucchiere. Questo prodotto, appunto, è un olio per capelli ultra concentrato, ne basta veramente pochissimo, è leggero, non va a pesantire il capello, come tanti oli che sono proprio untuosi, vi lascia proprio il capello unto, è unico nel suo genere, protegge dal calore ed elimina l'effetto crespo. Io comunque lo vado ad utilizzare alla fine dello styling, cioè dall'asciugatura, perché comunque vado ad utilizzare la crema, appunto, che protegge anche quello per il calore e per la piega, e questo lo vado ad applicare alla fine, quando ho finito di passare la piastra, lo vado ad applicare sulle punte. Io l'ho già utilizzato un po' di volte, ragazzi, sembra che non l'ho mai utilizzato, ma in realtà l'ho utilizzato, ne basta pochissimo. Ripara, rinforza, idrata tutti questi tipi di capelli, aumenta drasticamente la brillantezza e la morbidezza, è vero, e la lucentezza dei capelli e dei colori, riducendo al minimo le strisce ribelli, cioè appunto i capelli ribelli, offre una protezione del calore fino a 450 gradi Fahrenheit, oppure 230 gradi centigradi, indicato per tutti i tipi di capelli, lisci, mosse, ricci, torcigliati, struttura dei capelli fine, media e folta, cioè praticamente questi prodotti che vi ho elencato vanno bene per qualsiasi tipo di capello, se l'avete secco, se l'avete grasso, perché allora io tendo a sudare spesso tanto di notte, non so come mai, il capello mi si ingrassa subito alla cute, e io pensavo di avere il capello grasso, mentre la parrucchiera mi fanno, guarda che tu non hai il capello grasso, tu sudi, e infatti mi sono accorta due notti che mi sveglio, e due notti che comunque ho la testa bagnata, e quindi pensavo di averlo grasso, comunque invece no, però questo non c'entra, era solo per dirvi che comunque è indicato proprio per tutti i tipi di capelli, per tutti i tipi di capelli, questo va benissimo, come vi ripeto è straconcentrato, quindi ne basta pochissimo, e ve lo straconsiglio, sono prodotti un po' costosi, ma contate che io già un po' di volte che uso lo shampoo, guardate fino a dove sono arrivata, ne basta una nocciolina, quindi ragazzi, spero che questo video sui prodotti Ola Plex vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un bel like, ve li straconsiglio, se avete anche e soprattutto i capelli trattati con decolorazioni o colorati, esistono altri prodotti Ola Plex, ma appunto li troviamo solo dai parrucchieri, quindi non posso dirvi cosa ne penso, e come mi sono trovata, comunque i capelli ragazzi restano subito in piega, lucidi, morbidi, spettacolo, e ve li straconsiglio, mi raccomando lasciatevi un bel like a questo video, se vi è piaciuto, vi mando un enorme bacione, e ci vediamo alla prossima, ciao!